Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial in cui realizzeremo un effetto davvero interessante e bello ovvero l'effetto della torcia umana, quindi quello dei Fantastici 4 e vediamo subito il risultato di questo effetto vedete ci sono io che arrivo con il dito diventa infocato, c'è pure il suono e vedete anche l'illuminazione dell'ambiente circostante quindi una cosa molto importante da dirvi è che utilizzerò un preset quindi un effetto da aggiungere al vostro programma che di sicuro non avete che dovrete scaricare dalla descrizione del video questo preset è creato da me stesso e appunto voi lo inserirete dopo lo inseriremo nel programma e vedremo che sarà nient'altro che una raccolta di effetti con delle impostazioni già fatte per il nostro corpo colorato appunto infocato, chiamiamolo così poi dopo aggiungeremo altri elementi quali la fiamma, il suono della fiamma, lo sfondo e chiaramente ci vorrà anche il video con dietro il telo verde ve lo faccio vedere velocemente ok quindi portiamo subito, anzi no prima, quando scaricherete il file zip troverete appunto questa cartella e aprendola trovate il preset dovrete copiare la cartella all'interno della cartella presets della vostra cartella del programma After Effects quindi vedete questa è la cartella del programma After Effects e questa è la cartella presets e vedete che io l'ho già copiato qua con dentro questo effetto scusate bene, quindi portiamo i 4 elementi che ci serviranno che chiaramente vi allegrò nella descrizione del video ecco qua e quindi portiamo subito il video con il telo che andremo appunto adesso subito a togliere il telo ok, quindi per togliere il telo utilizzerò un effetto che probabilmente che non c'è in tutte le versioni di After Effects quindi se avete dei problemi lo chiedete nel forum di supporto che ho linkato nella descrizione del video quindi selezionate il video andate su effetto keying keilight quindi a questo punto dobbiamo modificare le impostazioni e quindi rimuovere correttamente il telo verde cosa assolutamente non facile perché infatti dovremo modificare alcune impostazioni controllare che tutto sia a posto diciamo che io ho pasticciato per ore prima di trovare la rimozione giusta quindi insomma io adesso chiaramente non sarò molto preciso per risparmiare tempo quindi clicchiamo sul contagocce di fianco a screen color e selezioniamo il telo verde quindi vedete che si è già tolto la maggior parte però chiaramente non è finito perché vedete le ombreggiature anzi per facilitarvi la vita andiamo in progetto e importiamo subito lo sfondo e lo mettiamo all'ultimo posto per vedere un po' meglio le ombre quindi adesso andiamo a modificare l'effetto keilight vediamo qua poi espagniamo screen matte aumentiamo un po' clip black attenzione a non rendere trasparenti anche le parti del corpo ecco questo bisogna diminuirlo softness ecco qua ecco poi chiaramente ripeto non sarò precisissimo ok secondo me così va bene poi non sono stato è molto preciso ha perso un evento chiaramente bisogna trovare l'impostazione giusta quindi adesso io sto pasticciando molto ecco qua ecco qua riporto questi valori a zero per cominciare un po' dall'inizio poi casomai voi saltate il tempo nel video in modo da saltare questa parte poi se voi provate a mettere le stesse impostazioni che sto mettendo io forse se le ombreggiature sono più o meno le uguali perché più che altro sto guardando questa parte che non mi piace ecco qua finalmente adesso direi che va molto bene perfetto quindi andiamo avanti un po' più velocemente per recuperare il tempo perso duplichiamo il video andando su modifica duplica quindi il primo premiamo invio lo chiamiamo uomo fuoco selezioniamo il secondo premiamo invio lo chiamiamo uomo perché ci serviranno due video il primo uomo fuoco che sarà quando io sarò infuocato e il secondo uomo che sarà prima che io divento infuocato quindi dunque espandiamo uomo fuoco espandiamo trasformazione ci portiamo nel punto in cui io scrocchio le dita qua clicchiamo sul cronometro di fianco ad opacità per impostare un fotogramma e portiamo l'opacità a 0 quindi ci portiamo avanti di due fotogrammi e portiamo l'opacità a 100 perfetto a questo punto riduciamo il menu selezioniamo sempre uomo fuoco andiamo sul livello traccia automatica infatti adesso tracceremo automaticamente i movimenti questo sarà utile più che altro per dare il colore al nostro personaggio qui in intervallo di tempo mettiamo area di lavoro canale alfa inverti clicchiamo su inverti clicchiamo su applica al nuovo livello i miei sono già selezionati e poi clicchiamo su ok aspettiamo che si carichi aspettiamo tanto durerà poco anche perché il mio video è corto ecco qua quindi adesso ho creato delle maschere e di solito questa operazione va sempre a buon fine adesso selezioniamo uomo fuoco controllate di avere l'impostazione maschera traccia visibile se non ce l'avete visibile cliccate sull'immagine piccolina in basso a sinistra formata da un cerchio e un quadrato infatti vedete che scompaiono e appaiono delle impostazioni quindi portate la maschera traccia di uomo fuoco a mascherino luminanza invertito traccia automatica eccetera eccetera quindi l'ultimo perfetto a questo punto possiamo importare il preset ovvero quel preset di cui vi avevo parlato prima quindi qua a destra in effetti predefiniti se non ce l'avete andate in finestra effetti predefiniti cercate torcia umana torcia umana tutto attaccato eccola qua se non ce l'avete probabilmente è perché non avete messo il file nella cartella presets oppure non avete riavviato After Effects dopo aver messo il preset quindi trasferiamolo nel livello uomo fuoco ecco qua a questo punto vedete che sono aggiunti tre effetti a livello uomo fuoco CC toner sfocatura veloce e bagliore potete modificare liberamente queste impostazioni per modificare il colore e per renderlo più realistico e comunque questi effetti sono normalissimi effetti che potete trovare tramite chiaramente questi qua ad esempio CC toner lo trovate in color correction sfocatura veloce lo trovate in sfocatura in contrasto e bagliore lo trovate in stilizza e se non avete CC toner è perché dovete scaricare un pacchetto ma di solito ce l'hanno ce l'hanno tutti comunque chiedete sempre nel forum di supporto linkato nella descrizione del video a questo punto selezioniamo uomo fuoco e traccia automatica eccetera eccetera e selezioniamoli tutti e due tenendo premuto il tasto control o se siete in Macintosh il tasto cmd quindi a questo punto andiamo in livello precomposizione lo chiamiamo uomo fuoco e clicchiamo su sposta tutti gli attributi nella nuova composizione e clicchiamo su ok a questo punto andiamo in modifica duplica impostiamo per il primo duplicato la modalità su scolora e per il secondo duplicato la modalità su aggiungi in questo modo abbiamo migliorato la colorazione del nostro diciamo personaggio infuocato grazie